Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergenze e qui con me c'è... Black Velocity Black Velocity che per oggi si chiama... Black Velocity, no, ha appena cambiato nome, perfetto, perché era Pokémon GO prima Comunque, oggi proviamo, dopo un sacco che giochiamo a LOL, a provare un altro MOBA Il MOBA Questo è Dota 2, non è IL MOBA, non scherzare, LOL è IL MOBA Ah beh, ma questo è complicato Per essere tutti gli hater addosso, perché abbiamo denigrato... Odiateci, così non ci asciamo sto... Comunque, faremo questa prova e molto probabilmente dopo cancelleremo il gioco Quindi, nel frattempo passano i motori sotto casa Quindi, niente, sigla e cominciamo Allora, che dici, in quanto tempo la troviamo la partita? 3 minuti Io dico almeno una decina Ma bon! Cerchiamo altri giocatori, vediamo Nel frattempo cosa si dice? Nel frattempo... Nel frattempo, eroi... Facciamo una vetrina un po' stronza C'è Corky, girocopter Tra i campioni di agilità Io invece devo giocare i tank, perché se giocare sono bene So giocare È diverso sto gioco, fidati Sì, quello che è Gioca a Dota Ok, giocherà a MOBA, vuol dire premere tutti i tasti a caso E vince E vince E classificata Pratica con i bot, pratica classificata Battlecard Non sai come si vince a MOBA, no? Non sai come si vince? All pick Vergence, sai come si vince a MOBA? Eh... Cioè, come... Premendo tutti i tasti a caso È vero, effettivamente All pick Avvia ricerca, vai Vai Europa Est Perché sono di me Comunque Comunque, senza nemmeno Fare il... Tutorial Cioè Il tutorial Giochiamo a Dota Quindi è da apprezzare questa cosa È Assolutamente da apprezzare Premendo tutti i tasti a caso Comunque ho visto un po' i prezzi di sto gioco Veramente alti Eh... Il pacchetto di... Il pacchetto di musiche Quattro euro e quaranta Eh ma se lo vuoi Spilla Spuggia Paga Sborsa La carta gialla Dota plus C'è solo un plus nel nostro povere E' PlayStation Dieci su dieci dai Fu così che tre persone non si connettano Eh? Oh, attenzione, attenzione What the fuck? Allora Io voglio il libro del tempo Cosa Monkey King Altre si è chiamato Sun Wukong Cos'è questo inventario? Chiarezza fuoco fatale Che corsi andiamo? Che corsi andiamo? Che corsi andiamo? Questo non sembra male No no ma... Oro rimasto a 600 Ti devi gestire quel 600 Però è per il fuori position Però è per il fuori position Però è per il fuori position Come ti sto vedendo? Let's get a move On the bot Oh mamma Allora Ma la giungla si fu Ma la giungla si fu Ma la giungla si fu Io andrò con le azioni Ehm... Spero che ci siamo in problema Ah... Che belli questi minion Sì Ehm... Stai... Stai facendo tutto tu Come cammino? Ah... Non sto parlando adesso Io andrò con le azioni E' banale sta cosa E' banale sta cosa E' pronto per qualcosa Occhio C'è tempo di andare Che figata Gioco in pausa Perché stanno poi in pausa? Perché? Qua sfruttano i cazzo di alberi Per nascondersi Erii stai attento Che sta oltre l'albero Sì ma... Dove sei? Oddio Perché ci sei tu qua Questa tua forma di... Lo so, lo so Non sei tornare dal tuo personaggio Non sei tornare dal tuo personaggio Non sei tornare dal tuo personaggio Ok Ma... Stiamo pure vincendo Ma no, stiamo perdendo Mi sa Non si capisce niente Niente No vabbè Non si capisce niente Per noi che siamo abituati al LoL E facciamo la prima partita a sto gioco Sto qua... Cioè... Cioè... E' la Caitlyn Così... L'enemio Top Tower Ha fuori Di ruota Sta cosetta Ah... Gioco in pausa Porco 2 Che palle sta cosa Ho morto po' dei Comunque io son morto Si è risconnesso dalla partita Aspettate che si riconnetta Cosa? Ho fatto un tower Is under attack Bello Perdiamo la torre? Ah ancora... Dai proviamo ad impegnarci Vediamo cosa ne esce Avevo vinto Ah no Però l'ho cambiato Vittoria dei Dire Che è Mai dire gol Eh... Io ho fatto 12 kill però Mi sono morto da su Non so nemmeno se esiste 3-12 Dai... Ti ho quasi raggiunto Ma però c'è uno... C'è quella la che ha fatto 0-15 C'è... L'ho abbassato più lungo Sì Bene... Quindi questa era la prova Enrico tu giocherai di nuovo a LOL A LOL o si... A Dota Giocherai di nuovo a Dota Dai DDC Bene... Vabbè... Allora vuol dire che la prossima prova Sarà su Smite Dai dai... Almeno quello è in 3D Ed è più semplice da capire Penso Tu stai pure nel canale Black Velocity Di chi è Fuel? Scusa... Ricordamelo Dai... Fai la chiusura No Ok... Finisce così il video Fai la chiusura No E finisce il video Perfetto Perfetto